Io penso che si debba ripartire da un partito più forte, più centrale, che investe sulla propria classe dirigente, sui territori, che fa crescere la classe dirigente e torna a fare formazione, ma un partito che è forte all'interno ma che è forte anche all'esterno, cioè che è più capace di interpretare le dinamiche sociali e i bisogni della società, quindi questo lo fai solo se sei più presente nella società. La scritta Un nuovo inizio campeggia sul palco del Teatro di Fiesole, dove è riunita l'Assemblea del PD Toscano che ha proclamato con grandi applausi Emiliano Fossi nuovo segretario e, dopo qualche riunione nei giorni scorsi, Valentina Mercanti, sua competitor alle primarie, presidente del partito regionale. Un nuovo inizio ma soprattutto una nuova sinistra, lo ripete spesso Fossi nel suo lungo discorso. Il suo pantheon è formato da grandi nomi del passato, a partire da Berlinguer, perché le radici sono solide, ma, spiega, occorre costruire un campo progressista nuovo fuori dalle nostalgie passate. Queste le parole del segretario. Il vento di cambiamento che sta soffiando, gli iscritti al PD aumentano e anche i sondaggi sono più ottimisti, sta spazzando via l'impasse e la crisi di identità che avevano fatto finire il partito in un angolo. Ma, spiega Fossi, questa è l'ultima chiamata per non deludere l'entusiasmo che è nell'aria. Come? Emiliano Fossi, davanti ai delegati dell'Assemblea Toscana, elenca i temi. Diritti, tutti, sociali e civili, basta tentennamenti, infrastrutture, tutte, non solo l'aeroporto di Firenze. Attenzione ai territori, tutti, superando la Toscana a due velocità. Persino la scuola di formazione di partito che propone Fossi la vuole in zone periferiche, magari in montagna. Anche la sanità dovrà essere più territoriale. Il partito che Fossi delinea dovrà essere un partito più attento ai problemi di chi non ce la fa, compreso il ceto medio. Con ascolto, partecipazione, mobilitazione, sono questi tre capisaldi che Fossi elenca. Insomma, stando di più sui territori nella società, appunto. Come partito e come politiche regionali che questo partito guida. Quello del segretario di tutti, come ripete più volte riferendosi al suo nuovo ruolo, è un discorso che sembra programmatico. In prima fila il presidente della regione applaude. Lunedì mattina fare il punto di metà mandato. Vedremo quanto questo nuovo vento di cambiamento soffierà anche sui prossimi due anni e mezzo di legislatura.